La comunità energetica è una fonte, delle fonti di energie rinnovabili che producono energia e che condividono questa energia prodotta in maniera autonoma tra più soggetti. A dare la definizione di comunità energetica è Sonia Dallaragione, presidente del Comitato per l'imprenditoria femminile della Camera di Commercio di Arezzo Siena, realtà organizzatrice dell'incontro che ha avuto al centro proprio questo tema legato alle energie rinnovabili e alle opportunità per le imprese. L'Italia è uno dei paesi con la più bassa autonomia energetica in Europa, un quadro reso ancora più complesso dalla crisi energetica in atto. Si spera in delle soluzioni, in delle opportunità per le imprese, in dei finanziamenti che possono aprire nuovi modelli energetici, tra cui quello delle comunità energetiche. Una futuro possibile che le nostre imprese potranno in qualche modo cercare di orientare con una partecipazione diretta e non solo, ci saranno anche altre istituzioni assolutamente importanti e coinvolte in questo processo che ci dovrà portare piano piano a cercare di incidere in modo, come dicevo, positivo su quelle che possono essere poi le politiche energetiche nazionali. All'incontro hanno portato la propria esperienza diretta alcune realtà retine virtuose nel campo delle energie rinnovabili. In attesa dei decreti attuativi in Toscana non esistono ancora comunità energetiche, ma ci sono percorsi avviati in questa direzione. Esistono percorsi avviati da alcune amministrazioni, da alcune associazioni di categoria, per l'inizio, lo studio e la costruzione delle prime comunità energetiche. In questa strada ovviamente devono essere percorsi in maniera...